Bene ragazzi qui sono altri 4 ore e ci sono tornati su passare di nuovo questo nuovo video Cosa no? La gente doveva leggere la mia scritta Ah Te l'ho impegnato pure a fare una scritta Bravo Sì Questa me la segnerò Comunque Questo oggi Dove siamo? Diccelo tu Cosa facciamo? Dove siamo? Quest'oggi giocheremo a gioco delle armi Su Ascension Mamma mia convinzione Cioè proprio L'entusiasmo in persona Ma perché non parte sta cosa qua? Perché è talmente entusiasta che è uforica Allora Come vedete c'è questa mod in pratica Che già Comunque Non è la prima volta che si vede in giro Cioè Ce l'avevamo fatta anche da Mirko praticamente c'è Ah Allora sì Ci sono varie modalità Insomma le vedete quindi Ma che cazzo? Eh sì Io c'ho la magia del teletransport No perché Dopo che selezioni la modalità Ti fa ritornare in partita E quindi ti Ti fa respunare in un certo senso Io ero là tutto bello salterlante Vabbè praticamente come funziona il gioco delle armi? Cioè non c'è bisogno di dirlo Però giusto per così Beh guarda il riassunto perfetto Sta scritto in alto Sì esatto Gun 1 di 20 Cioè arma 1 di 27 Abbiamo Prossimo arma in 150 punti Esattamente Hai detto tutto Fine E quindi ci sono 27 armi Semplice Semplice Efficace E divertente Comunicente Punto net Ma non mi fa coltellare Normale Eh no È normalissimo perché Ovviamente È fatto bene questo gioco delle armi Ci sono alcuni gioco delle armi Che diciamo sono Puoi fare punti in diversi modi Qua invece i punti Li puoi fare solo e esclusivamente Bello Bello Eh uccidendo gli zombie Quindi il coltello è bannato Le armi al muro ad esempio Non me la fa comprare Se vuoi prova anche te E ovviamente non si può cambiare arma Perché è gioco delle armi Buono Buono Allora è un uno contro uno abbiamo detto Chi vince chiude il canale No aspetta Chi vince chiude il canale Eh Ok Non era così la scommessa Non proprio va bene Comunque guarda lì che ti do 40 di ping Guardala Guarda La mia connessione mi da quel video Tutti così Vabbè comunque non è una Non è una prima stanza Non è nessuna challenge C'è solamente Ah non è una presto No 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 C'è questa sì Questa sì Però non è una No Che burlone No ma non No io ero serio veramente No 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 Si può andare in tutta la mappa No no C'è Ok ok Si può fare Dobbiamo prendere le cose Le robe Robben Le cose Le cose Ma chi robben è quello del Vabbè magari comunque stiamo Quanto più possiamo qua Poi Chiamiamo Prendiamo di organizzare Organizzarci Quindi abbiamo detto uno contro uno Tu a che stai? Sto a meno uno Che senso Non so Ah bene Manco le granate stanno No infatti Io ho appena messo la K74U Infatti tipo le altre modalità ho provato solo Sharpshooter Che sarebbe quella modalità che ti cambia l'arma Sharpshooter Ogni 30 secondi E poi basta di questo modo Ho provato solo queste armi Tra l'altro so che ci sono anche dei perk Custom Lo sai perché? Lo sai perché questo simpaticone Hai capito? Perk perché? Ha 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 Che burla Il re della burla Troppo burlo Vabbè forse l'avete anche letto qua Perché sta scritto il suo canale YouTube E il tizio che ha creato praticamente Saloon Eh già È lui Ho trovato uno slot perk Ti ha dato uno slot perk? Cosa? Sì Ti ha dato un perk forse No no uno slot perk Ah ci sono anche gli slot perk Ok E sì infatti L'ho appena nominato E il tizio che ha creato Saloon Sapete bene Chi ha visto Saloon E se non l'avete ancora fatto Andatela a vedere Perché è una mappa assurda quella lì 30 perk in una mappa Il creatore di Saloon è fissato con i perk Cioè sì Fissatissimo quindi anche qui Sarà un ubriacone probabilmente Anche qui non potevano mancare perk ambigui Quindi A cazzo Li ha messi Li ha messi Eh sì Li ha messi Magari diciamo che ci saranno alcuni simili a quelli di Di Saloon Sì sicuramente qualcuno sarà Cioè io sono a Sì sì Facendo una blind run Ma è Sono nelle tue mani Ecco No vabbè io più o meno l'ho vista la mod come è Cioè non è poi così tanto diversa da altre Perché poi stanno anche su Black Ops 3 queste qua Queste mod Sono carine da E noi ovviamente Visto che siamo old school Piuttosto che fare su Black Ops 3 Le facciamo su Black Ops 1 Ci sarebbe anche Ascension su Black Ops 3 Ma ovviamente noi Sicuramente Noi la facciamo su Black Ops 1 Perché Non ha il PC E quindi noi giochiamo su PC Alla faccia sua Dai povero prima Guarda il video dice no Sad Sì sì Ah ma quindi potevano giocare Che raga mi viene voglia tipo da coltelare gli zombie Ma non posso Vabbè ma in ogni caso lui c'è su PC Black Ops 3 comunque non lo può giocare No ma io infatti dicevo non l'abbiamo fatta su Black Ops 3 PC Per il motivo che non abbiamo Ascension su PC Perché non l'abbiamo comprata Perché siamo poveri Non lo volevo dire però il succo è quello Va bene La salsa La salsa Io sono 7 su 27 E te? Pizza Due avanti sei Sono sempre una spanna Tutto e a tutti E a tutti Ok no volevo dire Punteggio totale dei punti delle armi non si possono vedere Dovrebbe equivalere comunque al punteggio che abbiamo per ora Visto che Ma non sto capendo Che I punti totali che abbiamo fatto Sono equivalenti Ci sono il basso destro Sì quelli sono i punti crediti Ma ci sono anche i punti totali Per avanzare di arma Dico sommati tutti Cioè vabbè Mi sono spiegato malissimo I punti che ho preso vale anche per te Sì Ma guarda che non è una dolore Cioè No vabbè è un gioco delle armi In teoria uno vince e l'altro perde però Quello è vero Cioè la mia idea Cioè scusa le altre volte quando avrei giocato con Mirko Come avete fatto No era più una coppia lì Quando avevamo fatto Ma ti pare che con me si fanno ste frociate No ma perché voi Sentiva come offende Mirko è lui che l'ha detto Io non ho detto niente quindi In realtà io offendevo entrambi Non solo Mirko Ah ok perfetto Anzi Mirko ho la prova Che non è gay Cioè voglio dire A darnay Penso possa testimoniarlo Che puoi insinuare con questo Che ne sai tu Eh che ne sai Sto solo insinuando Che magari tu puoi insinuarti Nel senso Che questo non è una coppia Ma è un uno contro uno Ah Allora Però ma quello intendevano Quello è il noggio Ah ma allora Non dico il succo del rischio Allora Dillo subito se è così Comunque la mia affermazione di prima Per chi l'ha capita Poche persone probabilmente È falsa Perché si possono riparare le barriere Hai alzato il tono della voce Perché ti avevano colpito No ma ogni tanto Vedo questo microfono Fa cose strane Tipo mi Mi droppa il suono Mi droppa Mi droppa Mi alza il suono della voce Troppo destini Infatti no Devo smettere Cioè perché Stai contagiando troppo Contagio tutti Sono un virus Peggio Peggio Ma l'hai saputo la notizia Tipo forse no Tipo Cioè Gli hacker americani Cioè gli hacker russi Che spiavano gli americani Erano assolutamente spiati Dagli hacker israeli Che al mercato Mio padre compro Sì più o meno Con una roba del jack Tipo quello spia Quell'altro Che viene spiato dall'altro Cioè tipo Vabbè sì Si sa che Apriamo questa E io spio tutti Visto che siamo già al 7 Sì va bene Vai 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 E lui se ne ritorna Vai vai Avanti Vai vai Ho fatto la finta Andiamo Dai apri Perché Attivare la corrente Non sarebbe una cattiva idea Vado diretto Spedito Sì sì Quanto stai di armi Eh 10 di 26 Eh dai Ho quasi recuperato Faccio cassa Sì sì Prova C'ho provato davvero Ma l'ha fatto veramente Oh fuck Purtroppo non funziona C'è un bonus che però Non posso prendere Dov'è? Sotto le scale ci stanno Un botto di zombie Ragapro Sì come se ci fossero Milardi Ragapro Va bene Eh sì Stai un po' laggando Sì forse è il peso della mod Ma se sei lost No ma non lag di Hardware lag Madonna non riesco a beccarne mancuno Hardware lag Oh hanno fatto in sincro la mossa Dai ma mi ha dribblato il colpo Tipo Ompas È uguale È uguale anche a me Tipo ha fatto la scossetta verso destra No? E c'era lo zombie dietro Che l'ha fatto uguale anche lui Fammi prendere sto Jugger Assurdo Dai 990 punti per la prossima Te che c'hai Sia la 11 o la 10 Oh perché non mi fa comprare il Jugger? Ah ecco No non possiamo Ma perché è Black Ops 1 No sai perché? Perché c'è esatto Sì sì Bravo Bravo Vedi che sai che cose L'ottimo pensavo non avessi slot Sì c'è cazzo Ho solo un altro per Immagino Zero slot Siccome ho comprato Electric Sherry Zero slot Tra l'altro L'iconcina del Jugger In pieno stile Black Ops 2 Oh c'è il PHD flopper Lo prendo Dove è che era Sta il Double Tap qui? Il PHD No il PHD Anche questo In Black Ops 2 style Grazie per la risposta Che non mi ha E dove era? L'ha Il Double Tap Dovina Non c'era? Bravo Ah vero che su Black Ops 3 L'unico metodo per averlo Era dalla Wound Sì è Qui non L'unica mappa Di Black Ops 1 Che non c'è il Double Tap Sì Vabbè a parte Nakt E E cosa Mamma mia A parte Nakt Che squad Non passa che ci mette anni Ah ce l'ho fatto Ma mi sa che tipo fa tutte le classi prima Vediamo se con il PHD BAM Guarda lì Ah ti conta i punti con il PHD Oh non lo so Perché hai preso il PHD? No mi piaceva Proprio mi piaceva Era troppo tempo che non vedi Siccome qui c'è il fottuto Widow Swine A posto del PHD Oh le scimmie Merda Pure loro stanno Eh sì Eh bene la mappa Te stai al Jug Io al PHD? Eh io L'Electric Cherry avrei come altro Vabbè non sta l'Electric Cherry Quella mappa Quindi a posto Come no E dove l'ho preso? Allora Dallo Spirito del Natale Eh ma non l'attaccano No non sta Non sta fisico No no I perchi non stanno fisici Cioè tipo Se prendi la Double Tap Non te lo possono mai fottere Visto che non sta fisico Ok Stai di fatto che io l'ho preso Dalla Perk Machine Ah l'Electric Cherry? Hai preso l'Electric Cherry? Ah allora sta Eh Ah allora sta Non è che me l'ha dato Lo Spirito del Natale No no capito Siccome ogni tanto le danno qua Ma dove sta allora scusa Allora dove vediamo Proprio alla corrente Ok E allora Te lo stanno fottendo Comunque mi è arrivato L'Olympia No per ora no Per ora quale situazione Dovrebbe essere Tra la scimitta Che sta arrivando Mi sa da stamina O se sta venendo Questo di me Ah ne vedo una ferma qua Ciao Cosa? No? Magari non lo attaccano E' Trick Cherry Perché è una mod Ah comunque sta il Double Tap E' qua L'hanno messo Ma che ca... Oh ma No questo è mod Non stava normale Ma what? Sì sì Tra l'altro c'è anche scritto Palese 2.0 Sì sì No è proprio il modello Anche col 2.0 C'è Figato Ma la scimmia Dov'è? Eh Una stava buggata Ferma Stava ti buggando Comunque potrebbe essere Che tipo quelli custom Non stanno messi Perché la sento Ah è qui buggata Sì Perché stanno buggati Se si buggano Ma vicino Saltate eh Brutte stronzete Ah non era l'ultima C'è anche il Dead Shoot Ma what the fuck Sì quello l'avevo visto Ricordiamo che è il creatore di Salon No? Sì sì È il creatore di Salon Allora Nulla è impossibile Ah vediamo Faccio un po' il giro della mappa Ah E' Trick Cherry Dov'è che stava detto il Cherry Eccolo qua Bello Fatto bene Ma dov'è l'ultima scimmia? Allora proviamo ad andare Tutte le zone aperte Allora E te vai alla prima stanza Eh ci sono Alla prima stanza Appena compro il quick revive Magari la tiro Che cazzo lo so Ah oh La sento fischiettare Allora è lì vicino Eccola Sì sì Vai fai Forse c'è anche il perché bottiglia E invece no No niente Che cosa ha colpito Forse è il Jug Eh il Jug Ah sì vabbè Che l'ho seccata Mentre ci saltava addosso Però mi sa che ha contato Siccome praticamente Nel momento in cui Stavo Stavo sporando Mi ha cambiato arma Dallo spazzo all'Olympia Dallo spazzo all'Olympia Sì sì Aveva avuto il tempo Ah dopo c'è l'Olympia Mi spoverato una cosa Eh vabbè Eh ste Eh insomma l'Olympia Sì penso mi durerà un bel po' Che c'è da fare un bel po' Oh Malus l'Olympia Però Cazzo Però vabbè Cazzo cazzo Oh io prendo il double tap Comunque Che Eh sì ma anche io l'ho preso Absoluti Boh mi sa che sicuramente Ci saranno altri perk Nella zona Diciamo stamina E anche forse speedcola Andiamo Oh macchina mortale Nonca io Mi fa usare Mi fa usare la macchina mortale Vaffanculo Ovviamente chi la prende No è già finita? Ah è No no è finita Perché mi ha cambiato l'arma Cioè Ho livellato Per andare all'arma successiva E mi ha tolto la macchina mortale Eh ma non vale così Che cazzo Mia ma non uccide l'Olympia C'è anche da Purtroppo Eh a punto C'è anche da Purtroppo 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 Purtroppo